Mi sembrava impossibile, il ponte è alto 5 metri e sopra le norme di stradali e mi sembrava quasi impossibile, insomma, una cosa inverosimile. Per fortuna è andata bene, il ponte ha retto bene, per fortuna, infatti dopo un'ora si è riaperta l'Arginale che per sicurezza era stata chiusa dai tecnici del Comune e dai tecnici del Tuenti. Adesso stiamo vedendo per riaprire anche il ponte velocemente a livello pedociclavile. Stamattina un'impresa edile locale, camionista, ha caricato una grande pacchera, ha preso proprio di brutto, devo dire, ha toccato senza volere ovviamente il ponte pedociclabile lì in zona Tuenti. Subito poi ha scattato l'alarme perché una volta era ferito sia l'artista ma anche poi due pedoni che erano sul ponte e poi il secondo step, quello ancora più impegnativo, era come reagire adesso perché il ponte si è spostato di un bel po' e per motivi statici si doveva per quello anche chiudere l'Arginale per diverse ore e grazie devo dire anche ai collaboratori nostri dei lavori pubblici, al corpo permanente dei pompieri di Bolzano siamo riusciti adesso a stabilizzarlo per poter aprire e alle due siamo riusciti adesso ad aprire di nuovo l'Arginale. Un ponte che abbiamo realizzato noi, ci passano circa 10.000 persone al giorno sia in bici che a piedi dunque è un ponte che ormai fa parte della viabilità cittadina per chi si reca in zona industriale di Bolzano a lavorare dunque è un ponte molto importante. Grazie